Palle in mezzo a cercare Infantino, 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 poi Letizia! 2-0! Danza, sì, Cespica, in questo caso che Cucci permette il contropiede della Reggiana con Letizia. Gran gol di Letizia, assolutamente gran gol di Letizia. Mantissimo anche perché seguiamo il calcio di Puliziere di Bruccini e il miracolo di Alfonso, poi Letizia con l'incredibile al città del... La mette giù, il biancazzurro, si accentra, salta due uomini proprio il giro, la loca distanza e c'è la rete! Gran gol di Doni Letizia, dal nulla, attirato fuori questo. Questo ha fatto veramente tanto e c'è ancora una grandissima parata di Letizia! Quarta rete! Quarta rete di Letizia per il Matera. Ma c'era stata una gran parata... Matera proprio con Carretta, mette in mezzo per Letizia! Che riesce a imbucare le spalle di Pisseri! 36esimo, attenzione al Matera, in avanti ancora il tentativo e la rete del vantaggio! La rete del vantaggio del Matera, sua azione personale di Letizia. Mischia, servito Letizia, 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 il testo di Letizia, il gol del Catanzaro! Il gol del Catanzaro! Parte Letizia, il destro! Tony Letizia! I, il cross a pallone dentro verso Letizia che prova a girarsi Letizia! 1-0 Catanzaro alla mezz'ora! Letizia! Il parezzo del Catanzaro!